Musica Eccoci di nuovo, buongiorno con l'informazione di TV 2000, vediamo i titoli di questa edizione del telegiornale. Pronto il piano vaccini per fermare il Covid. A gennaio arriveranno le prime dosi in Italia, saranno gratuite per tutti e l'acquisto sarà centralizzato. Priorità per le fasce a rischio. Ultime limature al decreto di Natale. Comuni blindati, noi ricongiungimenti familiari fuori regione. Coprifuoco alle 22, messa di Natale in orario compatibile con il coprifuoco, dice la CEI. Udienza generale del mercoledì, il Papa esorta non a maledire ma a benedire. Se tutti noi facessimo così, ha detto sicuramente non esisterebbero le guerre. E dunque in apertura l'informativa al Senato del Ministro della Salute sul piano vaccini. A gennaio, lo abbiamo detto, arriveranno le prime dosi e saranno gratuite per tutti. L'acquisto sarà centralizzato e priorità sarà per le fasce a rischio. Sentiamo tutti i dettagli con Barbara Masulli. La campagna di vaccinazione sarà imponente e richiederà uno sforzo senza precedenti. Dobbiamo evitare di arrivarci con i nostri presidi sanitari in difficoltà e con il personale totalmente impegnato nella lotta contro il Covid. Presentando in Senato la campagna di vaccinazione contro il Covid, il Ministro della Salute e Speranza ha parlato di luce in fondo al tunnel. Perché appare probabile che a partire da gennaio avremo i primi vaccini e poi progressivamente saremo in grado di vaccinare un numero sempre più alto di italiani. Le parole d'ordine saranno persuasione e informazione. Non ci sarà infatti nessun obbligo di vaccinarsi, almeno per il momento. Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione dei cittadini. Il nostro obiettivo è, senza dubbio, raggiungere al più presto l'immunità di gregge. Nella fase iniziale della campagna vaccinale si prevede una gestione centralizzata della vaccinazione con l'identificazione di siti ospedalieri o peri ospedalieri e l'impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione. Si stima al momento un fabbisogno massimo di circa 20.000 persone. Il vaccino sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani e la distribuzione avverrà coinvolgendo l'esercito e medici specializzanti. Fra AstraZeneca, Moderna e le altre aziende che saranno a breve pronte con il vaccino, il nostro paese ha opzionato 202 milioni di dosi, sempre che tutti i processi autorizzativi vadano a buon fine. Stando a quanto anticipato, la speranza è probabile infatti che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione. Le prime date indicate dall'Agenzia Europea per i medicinali sono 29 dicembre per il vaccino Pfizer e 12 gennaio per Moderna, mentre il cuore della campagna vaccinale sarà tra la primavera e l'estate. La priorità l'avranno naturalmente gli operatori sociosanitari, il personale dell'RSA e gli anziani. Sono in corso invece le ultime limature al decreto di Natale contenente le nuove misure anti-Covid. Linea dura sul Natale perché la principale raccomandazione è evitare di ospitare persone non conviventi. Facciamo il punto con Augusto Cantelli. Coprifuoco alle 22 bar e ristoranti chiusi alle 18 ma forse aperti a pranzo a Natale. Santo Stefano e Capodanno no agli spostamenti tra regioni dal 21 al 6 gennaio e tra comuni anche nella fascia gialla il 25, il 26 e il 1 gennaio. Confronto aperto e ad alta tensione all'interno del Governo sul DPCM che scade domani e con le misure di restrizione in vista delle vacanze di Natale dal 21 dicembre al 6 gennaio. Si prova a mantenere la linea del rigore per evitare assembramenti ma con qualche apertura come la concessione ad un familiare con il nucleo più stretto di andare dai genitori o dai nonni che vivono soli. Si lavora anche alla possibilità di raggiungere le seconde case. Stop invece alle crociere e per impedire gli spostamenti sulla neve prende forma l'idea di chiudere hotel e resort. E quarantene per chi decide di trascorrere il periodo all'estero. I negozi chiuderanno alle 21 e i centri commerciali potranno rimanere aperti il fine settimana e nei giorni festivi prima del 20 dicembre. Dovranno restare chiusi invece durante le festività. Ancora una giornata di incontri a Palazzo Chigi con regioni e delegazioni dei partiti di maggioranza. Per questa sera convocato un nuovo Consiglio dei Ministri è sul tavolo oltre al DPCM che scade il 3 dicembre, ossia domani, anche un decreto regge con le misure su una tale misure che comunque saranno varate nella giornata di domani. All'estero adesso per parlare ancora di Covid il Regno Unito è il primo paese al mondo a cominciare la vaccinazione. Lo farà dalla prossima settimana con le dosi della Pfizer e ci è attesa poi anche per le linee guida europee per il contenimento del virus proprio durante le festività natalizie. Sentiamo Antonio Soviero. La giornata di oggi porterà il numero dei contagiati da coronavirus nel mondo a superare quota 64 milioni, mentre i dicessi confermati sono oltre 1.481.000 dall'inizio della pandemia. Negli Stati Uniti, il paese più colpito, sono oltre 2.500 i morti per Covid-19 registrati ieri e il dato più alto da fine aprile, record anche di persone ricoverate in ospedale. I nuovi contagi invece sono 180.000. Ma veniamo in Europa. Mentre sono attese per oggi le linee guida anti-Covid per le festività natalizie, la Francia fa sapere che ci saranno controlli alle frontiere, tamponi e quarantene di una settimana per i francesi che andranno a sciare all'estero. Novità importanti dal fronte ai vaccini. La Gran Bretagna approva, primo paese al mondo, l'uso di quello della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel paese a partire dalla prossima settimana. Anche la Turchia prevede di utilizzare il vaccino cinese Sinovac dal prossimo 11 dicembre. Pechino invierà milioni di dose ai paesi in via di sviluppo. Il primo che si è vaccinato col prodotto cinese pare sia il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, insieme alla sua famiglia e ai funzionari di Vertice. La Corea del Nord non ha ancora ufficializzato alcun contagio di coronavirus nel paese, ma nessuno ci crede. Grazie. Grazie a tutti. Notizia falsa è stata la replica di Donald Trump. Benny Gantz, alleato di Benjamin Netanyahu nel governo di unità israeliano, ha annunciato l'intenzione di votare oggi una mozione di sfiducia che chiede lo scioglimento del Parlamento e lo svolgimento di nuove elezioni. Non rispetta gli accordi, è concentrato solo a schivare processi la motivazione della scelta che potrebbe portare il paese sull'orlo della crisi e per la quarta volta in due anni di nuovo alle urne. La pagina Vaticana, Papa Francesco in udienza generale, anche oggi al chiuso dalla biblioteca del Palazzo Apostolico per rispettare le misure anti-Covid. Un appello per la Nigeria dopo la strage di sabato. Sentiamo un passaggio della Catechesi. Dobbiamo benedire tutto in Lui, tutta la gente, benedire Dio e benedire i fratelli, benedire il mondo. E questa è la radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi benedetti e la capacità di benedire. Se tutti noi facessimo così, sicuramente non esisterebbero le guerre. Questo mondo ha bisogno di benedizioni e noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. Nessun indizio di terrorismo sull'incidente di Treviri. L'uomo che ieri ha guidato un'auto sulla folla in Germania era ubriaco e soffre di disturbi psichici. Sono quattro le vittime del gesto, tra loro c'è anche un neonato e 30 invece i feriti, di cui otto ancora in gravi condizioni. Torniamo ancora a cronaca, ma torniamo in Italia, andiamo a Caltanissetta, sgominata all'alba di questa mattina una banda di pakistani che sfruttava abbraccianti tra i reati contestati all'organizzazione criminale. C'è anche un omicidio, si tratta di un ragazzo colpevole di essersi ribellato ai suoi caporali e per questo ucciso il 3 giugno scorso. Sono 12 le persone, oggi finite in manette. Professionisti sanitari, specialisti di internet e responsabili delle vendite sono le figure professionali tra le più richieste sul mercato in questo momento di pandemia e sarebbero 90.000 le posizioni ancora scoperte. Giuseppe Caporasso. Nonostante la devastante crisi socio-economica che attraversa il paese, ci sono 90.000 opportunità di lavoro fino all'inizio del nuovo anno. Lo sottolinea Asso Lavoro Data Lab, l'osservatorio delle associazioni nazionali delle agenzie per il lavoro. Sono 30 le figure professionali richieste dal mercato. Si cercano in particolare nel settore sanitario infermieri qualificati, tecnici di laboratorio e medici, nel settore informatico ingegneri, analisti software e tecnici di rete mentre in ambito commerciale, nonostante la crisi, gli aziende cercano responsabili di vendita, analisti di vendita e tecnici commerciali per le esportazioni. È interessante vedere che ci sono richieste anche nel settore manifatturiero per addetti allo stampaggio, addetti alle macchine a controllo numerico computerizzato, tagliatori, verniciatori e in generale metalmeccanici specializzati principalmente per le industrie del made in Italy. Si tratta per lo più di contratti di lavoro a tempo determinato, con le tutele e la retribuzione del lavoro dipendente. Infermieri professionali, operatori sociosanitari, tecnici informatici, spedizionieri, export manager, addetti alle macchine a controllo numerico. Queste sono alcune delle figure professionali che le agenzie per il lavoro stanno cercando. Da qui alla fine dell'anno vogliamo coprire circa 90.000 posizioni che sono oggi scoperte. Le agenzie per il lavoro sono a disposizione di tutti, sia di coloro che cercano lavoro che delle imprese, per dare a ciascuno un lavoro coerente con il proprio profilo professionale. E parliamo adesso di maltempo. Si imbianca Milano, la prima neve è caduta proprio questa mattina, ha imbiancato il Duomo, allerta neve invece in Piemonte, anche a basse altitudini, piogge abbondanti in Veneto. Il Mose è entrato in funzione a Venezia per proteggere la città dall'acqua alta che in mare raggiungerà i 120 centimetri. A questo proposito vi ricordo che alla fine del Tg ci saranno le previsioni del tempo per rimanere aggiornati sul meteo. Negli ultimi cinque anni, invece, ancora prima che il Covid si abbattesse sul nostro paese, il Servizio Sanitario Nazionale aveva mostrato tutta la sua fragilità nell'accesso alle cure. È un quadro drammatico quello del rapporto PIT-Salute di Cittadinanza Attiva. Ce ne parla Alessandra Camarca. L'accesso alle prestazioni, lo slittamento di visite e l'assistenza territoriale sono le principali criticità del Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini. È il quadro che emerge dal rapporto PIT-Salute di Cittadinanza Attiva, che fotografa lo Stato del Servizio Sanitario Nazionale, quest'anno con un approfondimento sulle tendenze tra il 2015 e il 2019 e un focus sul 2020, scelta dettata dall'emergenza da Covid-19. La difficoltà di accesso alle cure resta la voce più segnalata dei cittadini, sebbene leggera diminuzione. Negli ultimi cinque anni si passa dal 30,5% di segnalazioni nel 2015 al 25,4% nel 2019. Cresce invece il dato relativo all'assistenza territoriale, 11,5% nel 2015, 19,7% nel 2019. Una lettura trasversale delle segnalazioni ci restituisce l'immagine di un servizio sanitario con problemi rilevanti di accesso alle prestazioni, con difficoltà legate al progressivo impoverimento delle risorse e a deficit organizzativi dell'assistenza su territorio, alle quali fa da contraltare un'organizzazione ospedale centrica della rete sanitaria della presa in carico. Al terzo posto delle segnalazioni dei cittadini, la sicurezza delle cure e le presunte cattive pratiche. Preoccupante l'impennata di segnalazioni in questo settore, in un anno dal 2018 al 2019 si è registrato un aumento di più 6,8%. Una voce comune a tutti i settori presi in considerazione è quella relativa ai costi del servizio per i cittadini. Il trend degli ultimi cinque anni mostra una crescita dal 9,2% al 13,5%. In particolare si segnala il costo dei ticket per esami diagnostici e per le visite specialistiche. Messa di Natale in orari compatibili con il coprifuoco è la scelta del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani, riuniti ieri in videoconferenza, che suggeriscono ai parroci di orientare i fedeli ad una presenza distribuita lungo tutta la giornata. Rosario per l'Italia alle 21, poi, dell'8 dicembre. Sentiamo. La liturgia è ricca e lo è ancora di più in una solennità come il Natale. Le possibilità per i fedeli di partecipare all'Eucaristia sono tante. C'è quella vespertina nella vigilia, quella nella notte, dell'aurora e del giorno. Sta ai parroci a orientare le persone a una presenza ben distribuita. Per quella della notte, essendoci il coprifuoco, sarà necessario prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con le misure adottate dal Governo. Detto questo, le messe ci saranno e i fedeli potranno partecipare pienamente ai sacramenti. Anche perché tengono a sottolineare i vescovi, nel documento finale del Consiglio permanente, questi mesi ci hanno insegnato che è possibile celebrare nelle comunità, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme. I vescovi italiani conoscono in prima persona le sofferenze e le difficoltà che vivono le persone provate dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi sociale ed economica. Da questa consapevolezza nasce l'urgenza per la Chiesa italiana di essere esempio di unità, saldezza e stabilità per indicare agli uomini il volto di Cristo, pienezza di umanità. Quell'umanità a cui oggi più che mai aspirano tutti gli uomini e le donne feriti dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Pandemia che ha messo in luce l'urgenza di un rinnovamento spirituale, morale e umano per rilanciare un paese ferito. Si avverte, scrivono i vescovi, l'esigenza di ricevere ascolto e vicinanza. Tanti oggi hanno bisogno di sostegno psicologico e spirituale e spesso non sanno dove trovarlo. I modi sono tanti per guardare ai più bisognosi e elenire così le sofferenze degli ultimi, la solitudine degli anziani, le preoccupazioni delle famiglie e le fatiche dei lavoratori. Con questo è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 15.15. Arrivederci, buon pranzo. Grazie a tutti.